Oh, buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi catalizza, oggi argomento top, oggi al centro dell'attenzione, l'intervista rilasciata da Gerry Cardinale al Corriere della Sera. Dovete sapere che nel mio piccolo sto finendo di leggere proprio in questi giorni il libro di Massimo Nava, grande giornalista, grande corrispondente, grande milanista, Quella sera in galleria, è il libro dedicato alla biografia di Eugenio Torelli-Violière, che è il fondatore del Corriere della Sera, il più importante quotidiano italiano che è stato fondato nel 1876 a Milano. Quindi mi fa un certo effetto vedere il numero uno del Milan, che è la nostra vita, che parla al Corriere della Sera, proprio in questi giorni in cui sono a stretto contatto con le radici più autentiche e più pure della storia del Corsera. Per cui, insomma, per farvela breve, al più importante quotidiano italiano italiano è uno dei più importanti quotidiani europei, si dice la verità. Poi si discute, poi è chiaro che il calcio è un argomento senza inizio e senza fine, è un calcio in cui hanno diritto di cittadinanza a tutte le opinioni, tutte le sensazioni, ma se un uomo pragmatico, sicuro, di personalità, come Gerry Cardinale dice, è categoricamente falso, è categoricamente falso. Io su questo canale ve lo dico sempre, a me non interessa farvi arrivare l'informazione che vi piace, a me interessa nei limiti, nei molti limiti che hanno le cose che conosco, a me interessa farvi arrivare quello che succede, non quello che vorreste che voi succedesse, perché ogni tifoseria, ogni milanista ha le sue ambizioni, i suoi sogni, le sue aspirazioni, le sue visioni, i suoi punti di vista, mancherebbe altro. Tutto calcio, tutta vita, tutto legittimo. Però a un certo punto bisogna sapere le cose come stanno e se Gerry Cardinale dice è categoricamente falso, è categoricamente falso. Non possiamo continuare a rimestare e quindi questo è e questo resta. Poi c'è la determinazione dell'uomo. Gerry Cardinale è il primo frontman rossonero carico di personalità che si espone dopo Silvio Berlusconi. aveva avuto un anno in controluce Yong Gong Li, poi la proprietà rossonera è stata salvata e rilanciata dalla famiglia Singer, da Elliot, con una conduzione proprietaria molto più improntata ai fatti che alla mediaticità, molto più in penombra che sotto la luce dei riflettori. E oggi siamo invece a Gerry Cardinale. Vedrete che parlerà poco, ci sarà ma non si sentirà, era una delle sensazioni dell'inizio, ma gli uomini si vedono, gli uomini si percepiscono e Gerry Cardinale è la ribalta, Gerry Cardinale è la prima pagina, sanno come si fa a stare insieme. Per cui tutte le cose, tutte le altre cose le avete lette, avete letto di questa stagione. Su questa stagione non ha messo la parola fine, io spesso vi dico, io non so come andrà a finire questa stagione, ma giochiamoci questa stagione. Voi credo che questa mia riflessione l'abbiate ritrovata in controluce nelle dichiarazioni di Gerry Cardinale di oggi, su Stefano Pioli, sulla guida tecnica, sulla squadra che ha cambiato molto, sulla squadra che era necessario che cambiasse molto. Quindi la determinazione di voler vincere, la determinazione di voler portare il Milan in alto, certo non è un cammino facile, certo gli avversari sono forti, io la conosco perfettamente la fonte del malumore di tantissimi tifosi rossoneri, la abbraccio e la capisco, però bisogna farsi forza e guardare avanti, come sempre abbiamo fatto nella nostra vita di tifosi rossoneri. Quando dico, a me interessa che vi arrivino per quello che so io, ragazzi, non sono né il Vangelo né l'oro colato, però cerco sempre di far arrivare ai tifosi rossoneri anche quello che non mi conviene, perché mi converrebbe qualche volta raccontarvela su, tenervi belli felici e contenti, fare tanti clic, e chi si è visto si è visto. E invece, anche se non mi conviene, perché poi mi becco gli insulti e mi becco le ondate negative di commenti, però preferisco sempre dire la verità, perché vedete oggi, oltre all'intervista di Gianni Cardinale sul Corriere della Sera, c'è un articolo di Franco Ordine su Il Giornale. Franco Ordine dà la sensazione di aver avuto contatti di recente con Antonio Conte, perché quello che risulta a Franco Ordine risulta per vie non ufficiali, ma per vie di amicizie trasversali e comuni anche a me, cioè che Antonio Conte è un estimatore del progetto del Milan, della conduzione societaria del Milan, dell'età media del Milan, delle prospettive del Milan. Ma Franco Ordine scrive oggi che, io l'ho detto spesso anche nelle dirette TV, tanti nomi, nessun nome, Franco Ordine scrive, la proprietà rossonera non ha contattato nessun allenatore per la prossima stagione, nemmeno Antonio Conte, come Antonio Conte ha confermato a Franco Ordine. e quindi io capisco, capisco tutto, so tutto e immagino tutto, ma è giusto commentare le cose che succedono, non quelle che si vorrebbe che succedesse. Noi abbiamo questa stagione sulla quale essere concentrati, io già sono preoccupato non solo per Monza, ma anche per il ritorno con Rennes, figuratevi se arrivo a pensare all'eventuale sorteggio di Europa League, ho già visto ieri a squadre dure, calma, calma, perché troveremo del duro domani sera a Monza, poi nella chiacchierata successiva ne parleremo, e poi c'è il ritorno a Rennes, dove ci sarà l'effetto Bolgia. Io ci sono stato a Bordeaux, ero allo stadio al Parc Lesquires nel 1996 in Copa UEFA, avevamo vinto 2-0 all'andata, per carità, con tutto il rispetto per il Rennes, quel Bordeaux era un Bordeaux importante, era il Bordeaux di Lisarazou, di Dugarry, di Zidane, era un Bordeaux veramente importante, e prendemmo gol subito e poi finì 3-0 per loro. Quindi calma e ripartiamo da 0-0 come dice Florenzi. Però è questa stagione che dobbiamo giocarci, ragazzi, è questa stagione che ci darà le indicazioni per la prossima, che ci darà il substrato per la prossima. Quello che ho cercato di raccontare questa mattina su Milan News, su Teo Hernandez, è molto la realtà della squadra, una squadra che è molto squadra, con il suo allenatore, con il suo staff, che è molto gruppo. Nessuno è attaccato a nessun tipo di panchina, a nessun tipo di poltrona. Il Milan sta insieme perché al Milan piace stare insieme. Naturalmente il piacere non basta, ci vogliono i risultati, ci vuole il rendimento, bisogna convincere i tifosi. Un umore che Gerry Cardinale nell'intervista al Corriere della Sera ha mostrato di conoscere. Però è soltanto giocandosela che si può arrivare a capo di tutto o a capo di nulla, ma intanto giocarsela e giocarsela il primo obiettivo. Domani sera a Monza, innanzitutto. Ne parliamo più avanti.